buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 29 febbraio l'ultimo giorno di febbraio un anno bisestile un anno che per pesaro in modo particolare rappresenta una data importante oggi il compleanno di giochino rossini ed oggi si inaugurerà finalmente dopo tanti tanti anni dopo un lavoro interminabile il vecchio palace è intitolato a scavolini questa mega struttura che ha costituito un po il centro sportivo della pesaro del basket e poi anche delle prove del brof il tempo addietro ora è stata letteralmente rimodernata ne parleremo dopo intanto procediamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo qua è sant'augusto chaplain lo vediamo nelle vesti di un saggio cinese in realtà sant'augusto visse nel diciottesimo secolo fu missionario in cina nacque in normandia e poi ebbe questa vocazione della missione andò in cina e qui purtroppo fu imprigionato nel diciottesimo secolo ancora in cina c'era una certa acrimonia nei confronti dei cristiani e quindi lui fu imprigionato insieme ad altri fedeli e fu poi giustiziato con il taglio della testa condannato a morte ecco perché è stato santificato era un santo tuttavia che ancora da conoscere in profondità ed ora vediamo le previsioni del tempo le previsioni del tempo oggi ci danno un tempo piuttosto nuvoloso i cieli infatti sono molto molto nuvolosi ecco vedete la grafica ho coperti con deboli piogge per tutta per tutta la giornata i venti saranno al mattino tesi e proveranno da este a pomeriggio tesi da est e nord est il mare è mosso le temperature 10 la minima 13 la massima il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 17.54 la luminosità del cielo a causa dello spessore delle nubi è particolarmente attenuata però insomma nel corso della giornata qualche schiarita dovrebbe determinarsi e allora diamo subito un'occhiata al resto del carlino questa mattina sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura è della stessa del Corriere Adriatico è dedicata alla sanità sì ieri il sindaco Massimo Seri con tutta la giunta c'erano tutti gli assessori ieri nella sala della concordia ha affrontato questo tema della sanità annunciando esprimendo anzi una importante preoccupazione un timore importante che cosa è accaduto? è accaduto che la giunta regionale ha approvato un atto nel dicembre scorso è un parere ma in realtà è anche una determinazione perché propone 80 posti letto per la clinica privata a Villa Fastigi a Pesaro ebbene una determinazione che fa sì che si superi il rapporto tra popolazione e posti letto concessi dalla normativa senza che in questo numero siano compresi i 50 posti letto che sarebbero stati assegnati a Fano insomma ormai la scatola è piena e questi 50 posti letto di Fano che fine faranno? dove si andrà a tagliare? magari in altre aste, in altre aziende sanitarie della regione Marche insomma è una preoccupazione importante perché è probabile che Fano rimanga a secco cioè questi 50 posti letto dato che poi si è tergiversato molto su questa questione prima dovevano essere assegnati anche a Chiaruccia e poi il dilungarsi della cosa è svanita che Fano rimanga senza questi 50 posti letto sarebbero stati 50 posti letto importanti l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini nell'ultima seduta monografica dedicata alla sanità del Consiglio Comunale di Fano aveva assicurato bene questi 50 posti letto resteranno a Fano ma alle parole al momento non sono seguiti i fatti e questo dunque ha determinato la reazione del sindaco Massimo Seri che sulla sanità ora imposta un'azione veramente determinata così come tutti gli altri esponenti di giunta ortopedia protesica si apre a costo zero lo dice il primario Memè, Assemblea dei Progressisti ebbene a Fano la protesica un settore importante per quanto riguarda la disabilità anche per quanto riguarda la cura delle malattie che si riferiscono anche alla traumatologia il reparto di Fano si potrebbe riaprire a costo zero e quanto è emerso martedì sera nel centro civico di Gimarra dove c'è stato un incontro in modo particolare sulla sanità organizzato dai progressisti quell'ala del centro-sinistra che si oppone alla coalizione che governa in questo momento il comune di Fano prima uscita pubblica del candidato sindaco Stefano Marchigiani che è stato affiancato dal capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri ebbene lo ha sostenuto nel suo intervento la dottoressa Liliana Gabrielli aggiungendo come da due anni il primario di ortopedia di Pesaro Luca Memè si stia adoperando per far capire tale possibilità ai vertici sanitari quelle di riaprire l'ortopedia fanese a costo zero ebbene mentre il dottor Giovanni Fiorenzuolo anche lui presente all'incontro di martedì a Gimarra ha denunciato il collasso del servizio sanitario pubblico insomma è stato fatto un ritratto di tutte le debolezze del sistema sanitario locale che è un settore importante su cui poi si dovrebbe impostare il programma della prossima tornata amministrativa e allora lasciamo la politica lasciamo la sanità per parlare di strutture e anche le strutture fanno parte della campagna elettorale oggi abbiamo un affondo di Fratelli d'Italia rappresentato da Davide Del Vecchio e Roberto Roberti appunto di Fratelli d'Italia che criticano l'intervento che l'amministrazione comunale sta facendo sul waterfront di Sassonia dopo la demolizione dell'anfiteatro Rastat e la costruzione vedete qui in questa fotografia il cemento e i pali di ferro che vengono innalzati si sta realizzando una piattaforma rialzata che secondo appunto gli esponenti dell'opposizione precluderebbe la vista del mare un muraglione al posto dell'anfiteatro Rastat a un mese dalla ripartenza del cantiere sulle lungomare di Sassonia del Vecchio Roberti tuonano si toglie la visuale del mare insomma un progetto che è stato criticato anche perché insomma l'anfiteatro Rastat non sembrava così in cattive condizioni e non sembrava così desueto da dover essere smaltellato però insomma la città cambia e lo vediamo come cambia repentinamente abbiamo visto recentemente Piazza Marcolini insomma con il nuovo look anche tutta la zona di Porta Marina vicino alla Bella Napoli anche qui tutto restaurato tutto riqualificato ed ora aspettiamo l'esito di Piazza Andrea Costa giriamo ancora la pagina e parliamo della settimana culturale fanese che è stata presentata a Pesaro sono oltre 60 appuntamenti tra ambiente, arte, archeologia incontri, letture, laboratori per grandi e per bambini tutto questo si svolgerà nei luoghi della cultura fanese cioè il museo, la mediateca, la corte amalatestiana il teatro della fortuna e anche la nuova sala che sarà resa fruibile al pubblico nell'ex tribunale in via Arco d'Augusto dove si trovano anche gli uffici della viabilità del comune di Fano la sala delle udienze un tempo era la sala delle udienze del tribunale dell'apertura e ora verrà adibita ad incontri pubblici insomma ci sono abbastanza posti per una saletta piuttosto accogliente il palazzo è un palazzo storico è il palazzo Nolfi quindi un palazzo che risale al rinascimento o ai primi del 600 ebbene è un ambiente che verrà inaugurato proprio in questa occasione e in questo articolo ci sono un po' tutte le iniziative che l'assessore Cora Fattori insieme agli altri assessori ha preparato per questa settimana e poi parliamo anche di Vitruvio perché ieri l'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha presentato questa nuova promozione fondata sul nome di Vitruvio Vitruvio rappresenta un po' l'emblema dell'archeologia affanese archeologia che ha diversi punti da valorizzare da poter attrarre il pubblico gli scavi di Sant'Agostino quelli della Memo poi abbiamo l'arco d'Augusto le mure romane insomma sappiamo benissimo quali sono le attrattive romane della città che dovrebbero essere implementate con l'apertura degli scavi del teatro romano ma questi ancora un pochino vengono ritardati per l'impiego di un sostanziale contributo che è giunto dal Ministero ebbene con la città di Vitruvio si inaugura una serie di percorsi accessibili a livello informativo anche sul web si tratta di contenuti multimediali resi disponibili sulla app Visit Fano che il turista potrà consultare in qualsiasi momento cliccando su Around Me e in questo caso si potrà selezionare un singolo monumento o un itinerario tra quelli della Fano romana ma non solo della Fano romana perché poi le attrattive fanesi si susseguono con il procedere dei secoli e quindi si potrà visitare la Fano medievale la Fano rinascimentale quella barocca fino ai giorni nostri caricate nell'app 40 video guide di cui una quindicina in formato 3D quindi un'impressione veramente bella suggestiva dal punto di vista visivo questa è un po' una nuova promozione che ha fatto l'assessorato al turismo ed ora parliamo di un'iniziativa importante dal punto di vista turistico tradizionale sapida come lo è la nostra gastronomia che si tiene a San Costanzo San Costanzo sinonimo di polenta ebbene domenica prossima si tiene una delle due iniziative polentare che si svolgono durante l'anno siamo in quaresima ma il buon Dio ci perdonerà se assaggeremo un piatto di polenta sagra polentara al via pronte 1200 porzioni appuntamento domenica per l'edizione numero 215 tante le proposte di animazione gruppi, folk, musica e DJ allora innanzitutto puntiamo la nostra attenzione sulla polenta di San Costanzo e su questa tradizione delle caldare dove la polenta si cucina e dove i sughi hanno un profumo veramente esaltante e poi tutte le iniziative di contorno di San Costanzo ovvero la sfilata del gruppo folcloristico La Matta insieme alla regina della polenta che è Vanessa Tarini e poi l'esibizione musicale dei bimbi della scuola dell'infanzia gli artisti di strada Valeria e i suoi ritratti Monolisco e Barba di Capria ai quali si aggiungerà la musica live del DJ Tommaso e Vittorio una domenica sperando che sia il bel tempo da passare a San Costanzo tra i profumi della polenta e insomma la vivacità di una domenica di festa di una giornata di festa a Urbino a Urbino c'è stata la visita del ministro del ministro aspettate Anna Maria Bernini ecco non la riconoscevo qui in questa fotografia Anna Maria Bernini la storia non è polvere ma luce il ministro è stato suggestionato dal rapporto che c'è tra l'università di Urbino e il contesto rinascimentale della città ducale il ministro ha inaugurato l'anno accademico una giornata urbinata intensa per la rappresentante del governo in questa università ha detto c'è una grande capacità siete circondati dalla bellezza ebbene solo una sensibilità femminile poteva rilevare questo rapporto sì è importante il finanziamento all'università è importante il rilievo culturale che l'università dà ai suoi studenti ma è anche importante veramente il rapporto tra la città e l'università in questo contesto ambientale edilizio culturale che fa di Urbino un centro molto molto importante Anna Maria Bernini ieri Urbino ha detto questa è una università che tutti noi portiamo nel cuore è una comunità è circondata dalla bellezza trae la sua spinta e la sua forza da un rinascimento che qui non finisce mai ebbene sono veramente delle belle parole vediamo ora le altre notizie parliamo di un incidente un grave incidente che si è verificato nella circonvalazione nella tangenziale anzi di Bologna purtroppo vittima è rimasto un urbinate si tratta di un cinquantenne che nell'impatto con un camion che trasportava alluminio lui era alla guida di un camion frigo è rimasto incastrato tra le lamiere della gabina per tirare fuori il camionista sono intervenuti gli agenti della polizia stradale i sanitari del 118 i vigili del fuoco e purtroppo l'uomo è trasportato con in gravi in gravi gravissime condizioni all'ospedale maggiore di Bologna dove adesso si trova in prognosi riservata legalità sportiva con il panathlon incontro alla scuola del libro il panathlon club di Pesaro incontra il liceo artistico di Urbino per parlare di legalità sportiva un incontro interessante dal punto di vista educativo e diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Pesaro sul resto del Carlino dove si parla della inaugurazione del Palace Cavolini quello di via dei partigiani auditorium ci siamo il Palace si veste di rosso finalmente dopo un lunghissimo periodo di lavori interni di soste di riprese e via dicendo oggi c'è l'inaugurazione bianco e rosso sono i colori della città ma anche quelli indossati dal WL Basket il Palace è il tempio del basket pesarese ecco perché ieri all'imbrunire si sono accesi dei fari luminosi colorati di rosso e la parete esterna dell'extempio del basket via dei partigiani ha così si è accesa di un nuovo splendore di una nuova immagine ebbene ora lasciamo il resto del Carlino per quanto riguarda le notizie e passiamo al Corriere Adriatico intanto vi annuncio un incontro oggi alle 17 alla Memo si terrà la conversazione di Dino Zacchilli sull'antica e modernissima lettera al potere di Vitruvio un appuntamento appunto alla Memo alla clinica di Villa Fastigi 80 posti letto ricorso al Tar contro il decreto regionale ebbene la presa di posizione del sindaco Massimo Seri contro questo atto che assegna 80 posti letto a Villa Fastigi e non dice nulla per quanto riguarda i 50 che dovrebbero essere assegnati a Fano fa parte di un ricorso che il comune di Fano ha presentato al Tar contro quell'atto del dicembre scorso che è un parere come ho detto ma che poi determina l'assegnazione di questi nuovi posti letto nella clinica privata di Villa Fastigi e poi a fondo pagina si parla dell'incontro che c'è stato per quanto riguarda la sanità quello della Gimarra si parla dei progressisti ci sono state critiche nei confronti del comune di Fano dell'amministrazione comunale ma anche critiche per quanto riguarda la regione perché in fin dei conti la sanità è un settore che dipende dalle decisioni della giunta regionale e qui vediamo Marta Ruggeri una delle protagoniste in tema della sanità è stato da Marta Ruggeri a lungo trattato in consiglio regionale per i turisti 40 itinerari disponibili sull'app Visit Fano ne abbiamo parlato l'assessore Lucarelli presenta i nuovi contenuti promossi con una anche brochure veramente interessante c'è una piantina di Fano con tutti i luoghi visitabili sia quelli romani quelli medievali quelli rinascimentali eccetera eccetera e poi una presa di posizione per quanto riguarda il manto sintetico rubato a Santorso l'assessore Bruno rispiega il ritardo per la consegna alle associazioni sportive non siamo stati in grado di concludere il bando per l'assegnazione di questi rotoli ha detto l'assessora poiché alcuni rotili sono stati sottratti furtivamente e qui c'è un'indagine in corso bello il poster che viene è stato scoperto a Fossombrone opera di un di un quadro di un disegno di Bucci è l'omaggio all'artista e al giro inaugurata l'opera che riproduce l'acquarello su 14 metri per 19 con vernici spray ebbene una bellissima opera che dà l'idea insomma anche della vocazione sportiva della città metaurense e poi vediamo sì a fondo pagina abbiamo questo articolo di Fossombrone sempre saranno installate altre 13 telecamere è un argomento che abbiamo già trattato nella giornata di ieri a Marotta a Marotta critiche sulla tassa di soggiorno occorreva una concertazione che non c'è stata con gli operatori e insorgono buonaccorsi e gentili e che negano che ci sia stata una condivisione con gli albergatori insomma che sono maggiori interessanti poi al pagamento di questa tassa che non pagano loro lo pagano i clienti però insomma ovviamente questo influisce sempre poi nella promozione della città nella convenienza di passare una vacanza a Marotta ma ovviamente anche poi nelle altre strutture del comune di Mondolfo vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di parcometri intelligenti che sono stati installati in centro più controlli contro i furbetti della sosta per goledesi delle diritti al futuro dice dispositivi malfunzionanti i vigili non multano Olivetti il sindaco li sostituiamo ebbene con questa notizia che costituisce un nuovo giro di vite per quanto riguarda la sosta a Senigallia concludiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il Tg di Fano TV Occhio la notizia e per la nuova rassegna stampa domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci